Nonostante le polemiche sulla questione che vanno avanti da tempo e che ultimamente si sono inasprite, il comune di Agropoli continua per la sua strada e cominciano i lavori dell'isola ecologica che verrà realizzata in località Malagenia. Nella notte, infatti, il terreno acquistato dall'amministrazione a Malagenia è stato adibito a cantiere con la comparsa di una recensione a delimitare l'area dei lavori che saranno gestiti dalla SARIM. A quanto pare però non saranno dei lavori semplici da effettuare perché gli abitanti della zona hanno reagito negativamente a questa sorpresa e pare che abbiano l'intenzione di bloccarli con un intervento diretto dei cittadini e anche perché continua l'opposizione del comune di Oiastro Cilento alla realizzazione dell'isola ecologica, come detto direttamente dal sindaco Apolito ai nostri microfoni, che dopo essere stato attaccato da Adamo Coppola ha ribadito la sua volontà di non far costruire il centro di raccolta al confine col suo comune. L'isola ecologica sta diventando sempre più scottante come argomento e il comune di Agropoli non può aspettarsi nulla di facile nel realizzarla.